Sosteniamo il progetto di Massimo perché nessuno meglio di un giovane può capire le esigenze dei giovani stessi. Cagliari deve rinascere, deve ripartire dalle nostre energie, deve ripartire dalla società della conoscenza che c'è intorno all'università e deve utilizzare gli studenti universitari come prima risorsa per ripartire e diventare competitiva a livello nazionale. Bastano?